benvenuti in questo nuovo video nel quale vedremo come aggiungere dei materiali all'interno della nostra classe all'interno cioè di google classroom l'argomento dunque sarà legato essenzialmente all'aggiunta di nuovi materiali in un ulteriore video vedremo invece come assegnare i compiti e restituirli perché questo video e perché questa operazione perché classroom è un ambiente di lavoro molto più agile della sezione didattica del registro spaggiari nella sezione didattica del resto noi possiamo solo caricare dei link eventualmente dei materiali ma non c'è interazione e oltretutto anche l'operazione di upload è piuttosto farraginosa e piuttosto lenta in classroom è tutto più rapido vi ricordo naturalmente che classroom è disponibile anche in dispositivi mobili tablet smartphone oltre che ovviamente da pc vi ricordo che l'operazione preliminare per entrare in classroom è fare l'autenticazione vale a dire inserire nome utente password del nostro account chioccio aliceo sansepolcro.eu dopodiché dovremo cliccare sui nuovi nuovi quadratini finché non verrà fuori l'icona di classroom oppure andare tramite barra degli indirizzi direttamente all'indirizzo classroom.google.com quella che state vedendo ora è il pannello della mia classe e tra qualche istante andremo direttamente online a fare l'operazione in diretta eccoci qua dunque questo il pannello di controllo delle mie classi ora andremo nella nostra palestra vale a dire quella classroom aperta per dare modo a tutti i docenti di sperimentare al di fuori della loro classe degli studenti tutte le funzioni quindi clicco su palestra di classroom e qui ecco vi mostro come inserendo un post ecco qua nel quale possiamo scrivere qualunque cosa per esempio ecco i materiali a quel punto sarà diciamo sufficiente cliccare su aggiungi e le operazioni come vedete sono molto semplici se clicchiamo su google drive il sistema ci proporrà subito tutti i nostri ultimi materiali per esempio nel mio caso un compito sul de beneficis di seneca o altri se invece clicco su link potrò inserire direttamente un link che copia incollerò in questa sezione oppure potrò inserire un file ecco qua un file vuol dire che so un pdf mio che non è online che ho generato io un'immagine mia che quindi trascinerò fisicamente qui oppure tramite questo tasto seleziona file dal dispositivo l'andrò a prendere da dentro il mio computer o infine un video di youtube questa è una delle funzioni più utili perché il video poi sarà direttamente incorporato nella classe qui possiamo avere direttamente modo di cercarlo quindi non c'è nemmeno bisogno di uscire da youtube facciamo un esempio scriviamo montale ecco qua e io lancio questa ricerca e youtube mi restituirà tutta una serie di risultati ecco il terzo dei quali è il nostro caro eugenio montale oppure se ho direttamente il link del del video io lo inserirò tramite il menu url lo incollerò qua e poi cliccherò su aggiungi fatto questo clicco su pubblica e i ragazzi vedranno direttamente nel loro nel loro stream tutto la nostra pubblicazione come quello che sto facendo io vedere vedere ora in un successivo video vedremo i lavori del corso e vedremo anche come contattare singole persone eventualmente anche dare valutazioni di compiti da loro consegnati grazie a tutti